Musica Benvenuti in diretta come ogni mattina negli studi di TRG anche oggi sabato 17 dicembre insieme per la nostra rassegna stampa per leggere le notizie in edicolo oggi sui quotidiani che parlano dell'Umbria come sempre cominciamo con la lettura delle prime pagine il Corriere dell'Umbria in primo piano con l'impianto di trattamento a freddo e nuovo selezionatore dei rifiuti un progetto dell'ARPA c'è il piano per chiudere le discariche si parla anche di ricostruzione il modello del 1997 va difeso costruttori e professionisti lanciano l'allarme intanto nasce la lega dei comuni esclusi dall'area del sisma a Perugia assistono un'anziana malata per prenderle i soldi una coppia alla sbarra per circonvenzione di incapace l'accusa non fa sconti istruttori ha chiuso ora il verdetto e ancora dall'Umbria lo sportello degli avvocati per difendere gli animali a Città di Castello sarà un Natale di incognite per i dipendenti della stile da Umberti definisce a un privato una parte del Parco Museo della Reggia a Foligno, Caos, Falchetti si lavora per una nuova società questa era la prima pagina della Corriere dell'Umbria siamo alla nazione che parla dell'Umbria mamma fermata con la droga insieme al bimbo di 4 anni questo nella prima pagina nazionale dove si parla anche di Gubbio e della famiglia intossicata dal monossido della quale vi abbiamo parlato ieri sera nel corso del nostro TG il padre salva moglie e due figli e la notizia della famiglia intossicata Gubbio ricorre nella prima pagina dell'inserto della nazione Umbria esalazioni da una stufetta il capo famiglia salva in extremis moglie e figli luci nel buio l'inchiesta che riguarda il centro storico di Perugia a Natale difficoltà nel raggiungere il centro ai parcheggi costosi la nazione scrive il Natale di Perugia appare decisamente povero di visitatori e clienti come si nota anche dalla foto l'inchiesta sulla crisi del capoluogo regionale e poi si parla della donna arrestata a Perugia con il bimbo di 4 anni ed oltre 3 chili di droga il figlio per mano nell'altra la cocaina per la cronaca giudiziaria delitto presta la parla la difesa di Rosi ha ucciso ma non credo sia un mostro così il suo legale e poi ad Assisi alla Porziuncola i vandali attaccano il presepe per chiudere la nazione parla del libro del giornalista Rosario Carello le telefonate del Papa siamo alla prima pagina del messaggero di oggi sballo di Natale fermato fiume di coca Perugia blitz dei carabinieri intercettati oltre 4 chili di droga dentro lo zainetto di un bimbo di 4 anni una volta tagliati sarebbero diventati il doppio ed è stata arrestata la madre scandalo cooperative i trucchi per aggirare la legge degli appalti intercettazioni gli avvocati 3.000 euro per 15 milioni solo una battuta influenza pronto soccorso assediato per molti un Natale a rischio febbre ancora a causa rifiuti ogni comune per conto suo si muove l'arpa il messaggero di oggi parla anche dell'arresto del presidente della squadra Città di Foligno Ius inchiodato dalle banche viene ricostruita la dinamica attraverso la quale si è arrivati all'arresto di Gianluca Ius e poi dal mondo dell'università finalmente riapre la mensa di medicina buone notizie per quanto riguarda le previsioni meteo un weekend quello che sta per arrivare soleggiato e dopo aver letto le prime pagine come sempre l'approfondimento con le pagine di cronaca regionale siamo al piano e quindi all'attualità al piano per chiudere le due discariche Ganappini dall'ARPA svela il progetto illustrato alla regione aureati servono un impianto di trattamento meccanico biologico e un selezionatore stop colture sopra le ceneri spunta l'Eternet siamo in Val Nestor e l'ARPA ha scritto ai sindaci chiedendo di interrompere la semine di vietare l'accesso dall'esterno e per racconti di vita vissuta storia di donne che ce l'hanno fatta è stato un successo il talk show organizzato alla Sala dei Notari di Perugia dall'associazione Progetto Donna molto partecipato e con spunti molto interessanti la ricostruzione del 97 non può essere cancellata su questo costruttori e professionisti si sono confrontati anche sulla crisi del settore e sul timore che un modello efficace possa essere messo in discussione dalla troppa burocrazia e intanto nasce la Lega dei Comuni esclusi dall'area del sisma il sindaco di Campello sul Clituno chiama, raccolta i colleghi e propone di ricorrere al Tar sempre dalle pagine Umbre si parla di animali e dei loro diritti anche gli animali hanno il diritto di avere l'avvocato in Umbria c'è uno sportello legale loro dedicato il delegato regionale è Matteo Silvestri per le cause civili e penali e il Corriere parla dei casi affrontati dallo sportello siamo alle cronache regionali dalle pagine della Nazione che parla del terremoto il sisma ha fatto crollare la speranza ma qui la reazione è stata fortissima Marini, governatore dell'Umbria dice emergenza e progetti per ripartire ancora per quanto riguarda la nostra regione in particolare da Assisi un nuovo santuario è dedicato alla spoliazione il vescovo Sorrentino dice è stata la culla del francescanesimo in particolare sarà nuovo santuario un complesso unitario con la sala della spoliazione e si trova all'interno del vescovado con la diacente chiesa di Santa Maria Maggiore che era l'antica cattedrale della città di Assisi il vescovo ha guidato i presenti alla cura vescovile mostrando anche i luoghi nei quali durante la seconda guerra mondiale il vescovo Placido Nicolini nascose i rifugiati ebrei e restando ad Assisi dopo San Francesco e Santa Maria si completa dunque il percorso spirituale simbolo di umiltà la sala della spoliazione è il posto in cui ricorda il vescovo San Francesco si spogliò di tutti i beni terreni siamo alle pagine regionali dal messaggero dell'Umbria di oggi influenza pronto soccorso sotto assedio parliamo del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia sono aumentati gli accessi nell'ultima settimana 30 persone in più ogni giorno a causa di febbre forti dolori nella maggior parte si tratta di anziani già aggravati da altre patologie ma anche per tanti giovani c'è il rischio natale a letto con la febbre dunque è confermata la grande forza la grande virulenza di questa influenza per la quale le ASL avevano già avviato da novembre la campagna di vaccinazione piano antidroga e infiltrazioni criminali parla il colonnello Piccinelli traffico di stupefacenti un problema serio coordinamento di polizia e finanza per combatterlo alla radice lo ha detto durante un forum al messaggero squadre miste di forze dell'ordine sotto la regia di prefettura e procura contro i tentativi di ingresso criminale nel processo di ricostruzione post-sisma e poi sballo di Natale è stato bloccato un fiume di cocaina in ingresso in Umbria e poi telecamere decisive per la sicurezza e la lotta al degrado questo torna a dirlo Piccinelli nell'intervista al messaggero dell'Umbria e siamo come sempre ancora alle cronache regionali questa volta di tipo economico l'economia dal Corriere dell'Umbria appalti e sicurezza ecco il nuovo elenco regionale dei prezzi il testo è stato presentato dalla regione Umbria dai collegi geometri delle province di Perugia e di Terni per la chimica elettrocarbonium nubi sulla cessione intanto per l'agricoltura i prodotti Umbri sono arrivati in vendita a piazza Navuna e sul manifatturiero il presidente Confini incontra le piccole e medie imprese siamo al settore dei servizi Nardi Schultz è confermato alla guida di Confindustria Sanità sul tavolo del presidente ci sono sanità privata servizi di diagnostica e ambulatoriale e ospitalità per anziani nell'alimentare novelli al Mise ma è sciopero e poi per l'enologia c'è il Sagrantino Taster il mini corso in quattro lezioni grazie ad un'iniziativa dell'associazione strada del Sagrantino terza lezione oggi alle 16.30 e ancora per l'economia andiamo alla nazione alle pagine della nazione che parlano di un'eccellenza locale Daniele Gelsi artista della storia ho vestito Rellir e Rigoletto la sartoria di Gualdo Tadino è nota per i costumi d'epoca non soltanto per quanto riguarda grandi opere televisive e teatrali ma anche per rievocazioni storiche come quella l'ultima in ordine di tempo Perugia 1416 Confindustria Nardi guida i servizi alla sanità ecco tutti gli uomini del presidente con il rinnovo del consiglio direttivo e per l'edilizia elenco prezzi appalti e cantieri sotto controllo siamo alle pagine della cultura cominciamo da quelle del messaggero agli alburi della rivolta dadaista Perugia nelle sale di Palazzo Penna celebrato Eric Satie uno degli artisti anteliteram del movimento d'avanguardia a 150 anni dalla sua nascita e poi pattinaggio sul ghiaccio Magia e Baby Dance Natale davvero alle porte anche nel Perugino il violoncello di Solima di Giovanni Solima alla Notari questa sera alle 20 e 30 ancora dalle pagine del messaggero si parla dell'arte di Alop partito da Spoleto con tanta speranza è arrivato a conquistare con le sue opere l'attenzione dei galleristi d'Europa l'ispirazione dai grandi maestri del passato dice in un'intervista ad Antonella Manni Londra e il legame mantenuto con l'Umbria adesso una grande mostra nelle sale di Palazzo Collicola cena di Natale a Casa Iog aromi speziati ed energia questo per il casale che si trova a San Marino di Perugia e che è aperto a chi pratica yoga siamo alla cultura e agli appuntamenti e agli spettacoli dalle pagine del Corriere Wilson canta Montan in esclusiva solo me un martedì al Teatro Cucinelli uno dei più popolari apprezzati attori francesi presenta 30 brani celebri di un'icona del XX secolo torna il concerto di Natale della BCC di Spello e Bettona domani la festa del socio all'auditorio San Domenico ospiti Alberto Sironi e Isabella Adriani polveri di stelle gli ottoni storici Tito Belatti in concerto dalla musica della bella epoca al jazz storico e allo swing a Palazzo della Penna a Perugia e infine gli appuntamenti e la cultura dalle pagine della Nazione pronto sono Papa Francesco le telefonate diventano un libro il giornalista Rosario Carello racconta il fenomeno il pontefice si appassiona e continua a chiamare racconta Carello nell'intervista a volte dà il suo numero a Perugia a concerto degli auguri con Giovanni Sollima alla sala dei notari a Spoleto 30.000 volumi si inaugura la biblioteca carandente e dopo l'excursus nelle pagine di cultura regionali siamo ai territori territori dal Corriere dell'Umbria come sempre in apertura parliamo di Perugia la pesta a sangue la compagna davanti al figlio purtroppo l'ennesimo orribile caso di violenza domestica la lite degenera per questioni sentimentali il 22enne ha aggredito la donna rompendole lo zigomo ed è stato arrestato anche dopo la condanna continua a maltrattare la moglie marito padrone alla sbarra un altro marito padrone alla sbarra e si parla anche della strage del Broletto funzionario dirigente della questura rinviati a giudizio sarà il processo fissato a giugno prossimo a sciogliere tutti i nodi sul rinnovo del porto d'armi a Zampi si prendono cura dell'anziana malata solo per gestire il suo conto corrente una coppia alla sbarra per circonvenzione di incapace l'accusa non fa sconti istruttoria chiusa ora spiega nel servizio Maurizio Muccini il verdetto a passeggio con il figlio di 4 anni e con lo zainetto pieno di cocaina è stata arrestata dai carabinieri una donna di 25 anni residente a Corciano ed ora è ai domiciliari rischio demenza per 7000 parliamo dei dati del Perugino forniti all'inaugurazione di un nuovo nucleo sperimentale al Fonte Nuovo con 10 posti letto a Chianelli il Natale più bello nel segno della speranza per i bimbi una giornata di allegria per i piccoli malati con i giocatori del Perugia e il messaggio di Flavio Insinna e ancora per i territori siamo ad Assisi si parla del metastasio attorno al quale si accende la polemica in città il metastasio va gestito dal comune per garantire la massima pluralità l'amministrazione risponde alle polemiche per il mancato rinnovo all'associazione DARE e ancora ad Assisi tante iniziative oggi per ricordare Pietro Mirti a 20 anni dalla morte oggi è anche il giorno nel quale la città serafica accoglie il presidente della Colombia Juan Manuel Santosh che è anche premio Nobel per la pace 2016 e terrà un Alexio Magistralis oltre che una preghiera si raccoglierà in preghiera sulla tomba del poverello ad Assisi prende forma il santuario della spogliazione sarà allestito nella chiesa di Santa Maria Maggiore per raccontare la vita di Francesco e ancora dai territori siamo nella zona del Tifernate dipendenti stile ancora col fiato sospeso il tribunale rinvia al 27 gennaio la decisione sulla proprietà dell'azienda natale di attesa per soci e operai e oggi la Fratelli Graziotti festeggia il cinquantesimo anno di attività nozze d'oro per un'azienda di successo Umberti dell'Asta un pezzo del Parco della Reggio un privato l'ha acquistato per 1500 euro il clamoroso sviluppo riguarda la zona vicina al Torrente una delle aree più frequentate della città siamo arrivati a Gubbio abiti giocattoli oggetti usati riprendono vita nasce un nuovo centro di riuso in via Venata sarà utilizzato anche da alcuni comuni limitro fino ad arrivo dalla Regione un finanziamento di 75 mila euro per la vita amministrativa eugubina a Gubbio culture e multiservizi al centro del Consiglio Comunale la seduta è in programma martedì oggi si terrà alle 18 nella chiesa di San Domenico il concerto sotto l'albero l'appuntamento è dedicato ai bambini del Serafico di Assisi e il Corriere ci ricorda che dal 19 al 23 dicembre la circolazione sarà alternata sulla Pian d'Assino a Gualdo Tadino tutto pronto per ammirare ancora il presepe vivente Venita Doremus l'allestimento agli orti del Bambini Gesù riprenderà l'adorazione di Gentile Daffra Fabriano ed oggi a Gualdo Tadino ci sono le premiazioni per il progetto un poster per la pace il concorso indetto dai Lions ha riscosso grande successo e partecipazione tra gli studenti del territorio focus sulle tante tragedie figlie dell'immigrazione l'incontro voluto dalla CGL l'incontro che si è tenuto ieri dai fatti di Marsinella a quelli di Lampedusa e siamo a Foligno tutti insieme per un nuovo Foligno il comune chiama a raccolta le società sportive e cittadine per ricostruire la squadra i tifosi dicono coinvolgiamo anche imprenditori locali intanto la rotatoria di Via dei Mille presto diventerà realtà acquisita l'area dell'ex motorizzazione civile la solidarietà porta uno strumento innovativo per la diagnosi l'associazione Donne Insieme ha regalato all'ospedale un apparecchio per la biopsia con guida in tomo sintesi avanti anche il progetto Mi Sento Bella restiamo a Foligno il blocco del traffico scontenta tutti e i residenti centro storico ancora una volta penalizzato l'ordinanza anti-smog continua a suscitare polemiche sono in molti a sollecitare provvedimenti che puntino alla prevenzione questi territori del Corriere dell'Umbria siamo alla Nazione e alle pagine Perugine l'inchiesta della Nazione sulla sosta a caro prezzo parcheggi scrive la Nazione tra i più cari i più costosi d'Italia Siena Arezzo Ravenna si paga assai meno centro storico a corto di identità ma sotto sotto c'è ansia di risveglio il professor Sant'Ambrogio risiede da due anni sull'acropoli è docente di sociologia generale alla facoltà di scienze politiche dell'università di Perugia fa la sua analisi dice la giunta si rapporti con i soggetti protagonisti della vita cittadina e ancora la procura mossa da un equivoco Sassaroli si difenderà sino alla fine torniamo a caso Gesenu l'avvocato Brunelli i suoi uomini hanno sbagliato lui non c'era botta e risposta con il comitato inceneritori zero che attacca Barelli non ci sta a veleni con querela sui controlli alla discarica e poi la verità di Rosi per il delitto Presta pronto a parlare ha ucciso ma non è un mostro sono le parole dell'avvocato Modena che ha ricostruito la vita di Raffaella dalle telefonate Presta si sono costituiti parte civile con gli avvocati Grosso e Brusco Bice elettrica solo 5 utenti al giorno ma il comune ci riprova e investe un piano da 350 mila euro 10 stazioni 100 stalli e 60 biciclette ancora da Perugia a Gozzino è deceduto anzi no clamorosa a GAF del comune cordoglio per il direttore dell'APT ma si tratta del figlio Ferruccio l'assessorato alla cultura annuncia il grave lutto con dichiarazione ufficiale poi due ore dopo la rettifica ma i social network non perdonano la scivolata l'albero è di ceramica così Natale fa il record l'opera viene inaugurata oggi in piazza a Deruta a Norcia le clarisse vogliono tornare i nostri risparmi per il monastero costrette dal sisma a lasciare l'Umbria ora dicono aiutateci a rientrare Corciano nuova vita per i vecchi oggetti il centro del riuso diventa realtà posata alla prima pietra un investimento da 500 mila euro e siamo a Santa Maria degli Angeli vandali in azione alla Porzium quale è stata danneggiata una statua del presepe amarezza un fatto commentano senza precedenti lo dice Moreno Bassanini presidente della Proloco Angelana che vediamo nella foto ancora ad Assisi tamburi e piatti solidarietà però terremotati ad Assisi Grasso e Minniti saranno al concerto di Natale e anche per accogliere Juan Manuel Santos presidente della Columbia premio Nobel per la pace a Bassia Umbra sfida degli alberi di Natale tra i rioni creatività ed arte nelle piazze cittadine promuove l'iniziativa lente palio a Gubbio una famiglia intossicata dal monossido salva grazie alla prontezza del padre esalazioni da una stufetta madre e figli sono stati trasferiti a Fano Gubbio ascoltiamo il convegno promosso dalla Caritas questa mattina al Cinemastra a partire dalle 9 concerto sotto l'albero di Gubbio appuntamento nella chiesa di San Domenico oggi alle 18 e a Gualdotadino confessa al GIP spacciavo a Rimini il 18enne ora agli arresti domiciliari ancora a Gualdotadino parliamo di inquinamento rifiuti non autorizzati a piani di quagli e rimpallo sulle competenze città di Castello una petizione sul futuro della ex FCU il tema torna al centro del consiglio lunedì in aula anche l'annosa questione trasporti e il parco pubblico va all'asta lo compra un privato un professionista si è giudicato l'area verde a ridosso del torrente regge e ne farà un orto sociale con pochi soldi circa 1500 euro si è giudicato l'otto intero con tanto di panchine lampione e quant'altro città di Castello negozi e 15 appartamenti ripartono i lavori all'ex Vittoria la riqualificazione dello stabile entra nel vivo la nazione parla anch'essa dell'azienda di pavimenti in legno contesa la stile udienza rinviata a fine gennaio intanto gli ex dipendenti vanno avanti a Foligno Ius pagato per incarichi inesistenti soldi della truffa sulla sua poste pay ecco le carte dell'indagine della finanza sul riciclaggio di denaro nei guai anche la trella la donna fa parte del cda del foligno calcio anche lei è finita in carcere i grillini la trattativa sulla società calcistica doveva essere più attenta dicono e poi le scuole mobilitazione sulla sicurezza la Carducci va ricostruita ex novo raffica di proposte nell'incontro col comitato dei genitori l'assessore Angeli dice sui 5 milioni del piano città utilizzabili per il nuovo polo scolastico decide il ministro siamo ai territori del messaggero dell'Umbria come sempre in apertura parliamo di Perugia aiuto ormai le auto in sosta spuntano proprio dappertutto il caso è di Viale Pellini la segnalazione impossibile passeggiare senza rischi c'è chi scrive al comune e chiede dissuasori per provare almeno ad arginare l'emergenza e intanto il cardinale Bassetti prega ha pregato con i giovani nella sera del 15 dicembre lunedì riapre finalmente la mensa di medicina e Ponte Vallecepi finanziamenti regionali per sistemare il parco ancora per le cronache locali parliamo di lasciamo Perugia e parliamo di Umbertide dove il parco pubblico diventa privato lo abbiamo visto un privato ha comprato un lotto di un parco che era pubblico acquisiti all'asta i terreni di via Roma circa mille metri oggi utilizzati come parco e percorso verde il nuovo proprietario vorrebbe dividere quello spazio in tanti orti da assegnare gratuitamente a chi lo chiederà Gualdo Tadino CGL migrazioni passato e presente e a Gubbio ecco il piano per riutilizzare l'ex ospedale di piazza 40 Martiri il monumento ai caduti non si può spostare le polemiche per una piazza e un parco giochi tra la proloquo e l'amministrazione comunale ancora dai territori andiamo nel Folignate gli usi in carcere inchiodato dall'allarme delle banche una filiale scopre operazioni sospette su un conto corrente di una società domani in campo solo il Sansepolcro il sindaco ha avviato il giro d'orizzonte il GIP spiega come è finito un'altra volta nei guai il presidente del Foligno e Trevi diventa tappa di High Path una veduta panoramica di Trevi nella foto che entra appunto la città dell'olio entra nel circuito e donne insieme a Foligno aiuto allo sviluppo del servizio di mammografia donando un nuovo macchinario ed erano queste le notizie dai territori ora una breve pausa e poi torneremo per parlarvi di sport dunque non mancata fra poco grazie a tutti